Ciao ragazzi, probabilmente siamo giunti all'ultima puntata dei Promessi Sposi, dovrebbe starci tutto in quest'ultimo video. Siamo arrivati a qua dove Renzo è nel Lazzareto, ma non perdo altro tempo in preamboli, passo subito alla lettura. Quel luogo, popolato da 16.000 pestati, tutto ingombro di baracche e capanne, di carri che andavano e venivano, gremito di languenti, languenti è un participio presente del verbo languire, quindi di persone che si lamentano e di cadaveri, sconvolse profondamente Renzo e mentre andava sbirciando, commosso tra le capanne in quell'immenso covile di sofferenti, incontrò Fra Cristoforo. Era stato fatto allontanare dal convento dal cugino di Don Rodrigo, il conte Attilio, sempre quello famoso della scommessa, che aveva richiesto a suo zio, membro del consiglio segreto, di trasferire il cappuccino a Rimini. Chi era il cappuccino, Ettore? Il cappuccino è un frate. Quindi è Fra Cristoforo, non volevo essere sicura che qualcuno non pensasse che fossimo a dare. Il caffè! Esatto. Non si era mai mosso da Rimini. E se non quando la peste, scoppiata in Milano, gli aveva dato l'occasione di dar la sua vita per il prossimo. Lo zio di Attilio era morto, sicché il suo desiderio era stato esaudito senza difficoltà. Oh, padre Cristoforo, disse Renzo quando gli fu vicino, Tu qui, disse il frate. Come state, padre? Eh, meglio di tanti poverini che tu vedi. Ma tu cosa fai qui? Vengo a cercare Lucia. Lucia? È qui, Lucia? È qui? Almeno spero in Dio che ci sia ancora. È tua moglie. Oh, caro padre, non sa nulla di quello che è accaduto. No, figliolo, da che Dio mi ha allontanato da voi altri? Io non ho più saputo nulla. Renzo iniziò allora a raccontargli del ricovero nel monastero, del rapimento, delle sue giornate a Milano, della fuga. E son qui, concluse, a cercarla, a vedere se è viva. Se non la trovi, disse il frate. Se non la trovo, vedo di trovare qualche di un altro. Oh, in Milano, nel suo scellerato palazzo, in capo al mondo, quel birbone che, se non fosse stato per lui, Lucia sarebbe mia da mesi. E se lo trovo, se la peste non ha già fatto giustizia. Sciagurato, gridò padre Cristoforo. Guarda chi è che castiga, disse accennando alla dolorosa scena che regnava intorno. Tu hai la vendetta in cuore. Fattene. Mi ricordo che fra Cristoforo, per una questione di onore, aveva compiuto un omicidio e da lì si era pentito talmente tanto che si è voluto far frate, appunto. Ora, una domanda. Perché una volta chiamavano tutti questi fatti padre? Eh beh, come i religiosi, è un modo per dire padre spirituale, perché avevano una funzione di guida spirituale. Lui, per Lucia, era questo, una guida spirituale come un padre. Capito? Ma un prepotente come quello, zitto, devi perdonare, vieni con me, ti farò vedere a chi volevi far del male. Probabilmente lo porta proprio da Don Rodrigo per fargli capire che stava già male. E presa la mano di Renzo lo condusse in una capanna, dove, su un materasso, involtato in un lenzuolo, con una coppa signorile indosso, stava Don Rodrigo. Aveva gli occhi spalancati, ma senza sguardo, il viso pallido e coperto di macchie nere, le labbra gonfie. Il petto si sollevava in un respiro affannoso, le dita erano livide e nere in punta. Guarda, disse il frate, è qui da quattro giorni, come tu lo vedi. Forse la salvezza di quest'uomo e la tua dipende ora da te, da un tuo sentimento di perdono, di compassione. Torniamo ancora al principio. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Chi lo aveva detto? Lo aveva detto Lucia a un cattivo dal quale voleva farsi liberare, che era... Era l'innominato. Era l'innominato. Tacque e iniziò a pregare. Renzo fece lo stesso. Poco dopo scoccò la campana. I due si mossero e il frate disse, va ora, va preparato a lodare Dio qualunque sia l'esito delle tue ricerche e poi vieni a darmene notizia. Renzo si avviò verso la chiesa, che gli era stata indicata da Fra Cristoforo, per vedere se Lucia fosse tra quei pochi fortunati che erano guariti. Ma non la trovò. Ormai quello che ci poteva essere di meglio era di trovare Lucia malata. Così si diresse verso il quartiere delle donne. Aveva già fatto non so quanta strada ed iniziava ormai a perdere ogni speranza. Quando, poggiandosi ad una parete, gli venne all'orecchio una voce. In tre salti fu all'uscio della capanna e vide Lucia chinata sopra un lettuccio. Lucia, l'ho trovata, siete proprio voi, siete viva, gridò. Oh, Signore benedetto, replicò Lucia. Voi? Perché? E la peste? E l'ho avuta? E voi? E anch'io? E mia madre? Non l'ho vista perché è in un altro paese. Credo però che stia bene. Ma voi come siete pallida? Come parete debole? Guarita però, siete guarita. E il Signore mi ha voluto lasciare qua giù. Ah, Renzo, perché siete qui? Non avete saputo del voto? Eh sì, purtroppo. Ma già che sapevate, perché siete venuto a cercarmi? Oh, Lucia, perché? Perché venire, mi dite? Dopo tante promesse. Ma Renzo, ho fatto una promessa alla Madonna. Madonna, credete che la Madonna voglia promesse in danno del prossimo? Per una parola scappata in un momento che non sapevate quel che dicevate. Promettete piuttosto che la prima figlia che avremo la chiamerete Maria? No, no, non dite così. Non lo sapete voi cosa sia fare un voto. Andate, andate, per amor del cielo. Lucia, sentite, disse Renzo. Il padre Cristoforo mi ha detto che è qui. L'ha avuta la peste. Purtroppo ho paura che l'abbia adesso. Gira, assisti gli altri, ma se lo vedeste che colore ha. Come si regge? Oh, Vergine Santissima. Ma ha detto che tornassi da lui a raccontargli se l'avessi trovata. Oh, e sentiremo che dirà lui del voto. Sì, sì, andate da quel sant'uomo. Ditegli che prego per lui e che lui preghi per me, ma per amor del cielo. Non tornate più a farmi del male, a tentarmi. Oh, ma pensate che non voglia tornare. Tornerei anche, fossi in capo al mondo. Lucia si lasciò cadere in terra, accanto al lettuccio, e iniziò a piangere a dirotto, mentre Renzo partì verso il quartiere del buon frate. Ebbene, disse Fra Cristoforo, vedendolo arrivare. L'ho trovata, ma c'è un altro imbroglio. Quella notte della paura, sì, è come dire, è votata alla Madonna. Per noi, povera gente, che non sappiamo bene come farle, certe promesse, è vero che non valgono. Figliolo, bisogna che prima le parli. Conducimi da lei. E senza dire altro, salviarono verso la capanna, dove si trovava Lucia. Oh, padre Cristoforo, esclamò Lucia, vedendolo entrare. Ebbene, Lucia, avete visto da quante angustie vi ha salvato il Signore? Oh, sì, ma lei, padre, come sta? Come Dio vuole. Sentite, figliola, cos'è quel voto di cui mi ha parlato Renzo? Non avete pensato che eravate già legata ad una promessa? E trattandosi del Signore, no? Beh, non ci ho pensato. Il Signore gradisce le offerte del nostro cuore, ma voi non potete offrirgli la volontà di un altro al quale eravate obbligata. Ho fatto male? No, poverina, ma se non avete altro motivo che vi trattenga dal mantenere la promessa che avete fatto a Renzo, sappiate che io posso sciogliergli dall'obbligo di codesto voto. Ma non è peccato pentirsi di una promessa fatta alla Madonna? Ma peccato, peccato ricorrere ad un ministro di Dio perché faccia uso dell'autorità avuta da Dio? Io ho visto il modo in cui eravate legati e non vedo perché Dio vabbia ora a voler separare. E se mi chiedete che io sciolga da codesto voto, non esiterò a farlo. Allora, allora lo chiedo, confermò Lucia. Padre Cristoforo chiamò Renzo, che se ne stava in un cantuccio guardando fisso al dialogo a cui era tanto interessato. E poi disse con voce più alta Lucia, con l'autorità che ho dalla Chiesa vi dichiaro sciolta dal voto di verginità e da ogni obbligazione che poteste avere contratta. Poi, rivolgendosi a Renzo, amatevi come compagni di viaggio, con questo pensiero da avere a lasciarvi e con la speranza di ritrovarvi per sempre. Poi il buon frate, nonostante il corpo consunto dalla malattia, si congedò con la serenità e la gioia di chi è felice di finire i suoi giorni in servizio per il prossimo. Quindi avete capito che si salutano, ma capiamo che di lì a poco ne farà Cristoforo, non ce la farà. Renzo partì subito per il paese in cui stava Agnese e mentre usciva dal lazzaretto iniziarono a cadere dei goccioloni radii e impetuosi che di lì a pochi giorni spazzarono via il contagio, una pioggia che ha pulito tutto. Lasciando solo qualche strascico qua e là. Trovata Agnese e condotta a casa, i due innamorati si recarono da Don Abbondio, il quale, dopo essersi accertato della morte di Don Rodrigo, questo non è mai diventato coraggioso, celebrò le nozze. I due sposi si trasferirono poi nel Bergamasco, dove Renzo, insieme al cugino Bottolo, acquistò una piccola azienda a tessile mentre Lucia, aiutata dalla madre, si occupò dei figli. Da quei due anni travagliati e avventurosi, avevano tratto la conclusione che i guai, quando vengono, per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, ci è parsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia. Qui sta proprio parlando con le parole originali usate da Manzoni, che, come sapete, si è inventato l'espediente di fingere di aver trovato questo manoscritto incompleto, con la conclusione scritta da persone del popolo. L'ultima cosa che vi voglio far notare è l'uso dell'anacoluto che lui mette in bocca a Renzo, ma in questo caso addirittura anche a se stesso narratore, quando dice i guai soggetto, quando vengono per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce. Allora qui è cambiato in questo caso, è diventato soggetto la fiducia in Dio e lì il complemento oggetto che sta al posto dei guai. Quindi ha fatto una ripetizione, i guai, la fiducia, lì sarebbe sbagliata come costruzione della frase. Manzoni non ha fatto questo perché non sa bene l'italiano, ma perché ha scelto di parlare come la gente del popolo, perché questa storia apre protagonisti, persone proprio del popolo. io vorrei una...